Con un evento in sala giunta si è aperto questa mattina l'undicesimo festival del cinema dei diritti umani di Napoli dedicato al tema dell'ambiente intitolato Il clima che verrà. Nell'occasione rappresentanti delle ONG e delle associazioni umanitarie internazionali hanno lanciato un appello per la liberazione di Silvia Romano, la giovane cooperante rapita un anno fa in Kenya mentre lavorava come volontaria. È un festival dedicato a Silvia Romano, questa è la prima cosa. Poi sarà un festival che parla di clima e di cause e conseguenze del cambiamento climatico globale. Quindi è un festival che parla di quello che sta accadendo in tutto il mondo. Cercheremo di dare una panoramica ovviamente nei limiti del possibile delle conseguenze di questo strano clima che ha poi delle radici profonde nei modelli di sviluppo dell'Occidente e quindi nel modo di vivere che caratterizza la nostra cosiddetta civiltà moderna. Stamattina stiamo ricordando la cooperante italiana Silvia Romano che è stata rapita esattamente un anno fa, il 20 novembre del 2018 e di cui ancora stiamo chiedendo il ritorno a casa. Le notizie su di lei sono notizie frammentate, alcune purtroppo molto vecchie. Nell'iniziativa di questa mattina di apertura appunto del festival abbiamo chiesto a gran voce anche con un appello la sua liberazione immediata. Un festival attraversato da altre due tematiche particolarmente importanti per il nostro tempo e di cui Napoli è stata appunto protagonista negli ultimi mesi. Quella delle ONG e quindi diciamo della battaglia, la criminalizzazione che le organizzazioni non governative hanno subito nell'ultimo periodo in Italia ed in Europa e dall'altra parte quella della giustizia climatica. Fino al 23 novembre sono previsti appuntamenti, dibattiti e proiezioni nello spazio comunale Piazza Forcella ma anche nel carcere di Poggioreale e nella fabbrica Whirlpool. Dal 27 al 30 il concorso cinematografico che si concluderà con la premiazione dei vincitori ed uno spettacolo musicale nella cornice monumentale del maschio Angioino.